Di nuovo buonasera a tutti voi da Telepriuli, bentrovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Apriamo con una fake news sotto forma di video postato, girato e postato su Facebook che mostra una parte dell'ospedale di Pordenone, deserta, per concludere che il Covid sia una menzogna. Peccato che l'autore del filmato, un negazionista, abbia sbagliato la zona e il giorno. La replica dell'ospedale, messaggi fuorvianti, valutiamo provvedimenti, la realtà è completamente diversa. Ci sono 190 ricoverati con il Covid. Un video girato nel giorno dell'epifania per dimostrare come il Covid non esista e non ci sia alcuna emergenza a Pordenone. 80 secondi filmati dal cellulare all'ingresso del Santa Maria degli Angeli, nell'area delle impegnative sul parcheggio interno. Alla fine una voce maschile sentenzia. Questa è la situazione a Pordenone. Per chi non vuole capire, questa è la realtà. Tutto una menzogna. Video postato su Facebook e fatto girare. Peccato che il regista abbia sbagliato completamente. Trama, inquadrature e dialoghi. Le immagini immortalate nel video, spiega il direttore sanitario di ASFO, Michele Chittaro, che è anche il coordinatore del piano vaccini regionale, si riferiscono a dare che non hanno nulla a che vedere con l'emergenza Covid. Il CUP per prenotare le visite oggi, giorno di festa, è chiuso. È normale che non ci sia gente come nell'area del parcheggio antistante. Purtroppo, va avanti, già in passato ci sono state alcune falsità pubblicate sui social. Il messaggio divulgato sul web, una vera fake news, però rischia di condizionare molte persone. La realtà è ben diversa, purtroppo, continua Chittaro. Attualmente ci sono 190 persone ricoverate per Covid e solo ieri ne sono state ricoverate 22. Valuteremo con la direzione generale se prendere provvedimenti in merito al video, conclude Chittaro. Insomma, un insulto ai tanti operatori sanitari che ogni giorno lottano in prima linea. L'autore del video difficilmente vincerà il Nobel. Oggi in regione sono stati registrati 906 nuovi contagi. Sono emersi da 6.380 tamponi molecolari, pari a una percentuale del 9,5%, e da 2.616 test rapidi antigenici. I decessi registrati sono 24, si aggiungono 9 morti pregresse afferenti al periodo tra il 5 dicembre del 4 gennaio. I ricoveri in terapia intensiva sono 62, mentre quelli in altri reparti scendono a 649. I flussi delle consegne dei vaccini e la necessità di nuovo personale sono stati al centro del confronto tra le regioni e il commissario per l'emergenza Arcuri e i ministri per gli affari regionali Boccia e della Salute Speranza. Hanno partecipato anche il presidente della regione Fedriga e il vice condelega alla Salute Riccardi. È in atto l'accelerazione della campagna vaccinale, ha commentato il ministro Speranza. Siamo secondi dopo la Germania. La grande maggioranza delle regioni ha raggiunto percentuali rilevanti. A regime, ha detto Speranza, effettueremo 70.000 vaccini al giorno finché non si avranno gli altri vaccini autorizzati. Le regioni per la campagna vaccinale attendono l'arrivo del personale ulteriore che ha risposto al bando del commissario Arcuri e hanno manifestato la propria disponibilità a collaborare perché si possa fare un accordo quadro con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Sono arrivate a 260.948 le dosi somministrate in Italia pari al 54% di quelle disponibili. Domani arriveranno nel nostro paese altre 224.000 dosi del farmaco Pfizer. Parte di queste sono destinate al Friuli Venezia Giulia. Tra quelle di domani e quelle già arrivate martedì, in totale in regione saranno 15.200 le dosi di questa settimana. Oggi intanto è arrivato il via libera dell'EMA al vaccino Moderna e domani si riunirà l'AIFA per la commercializzazione. 107.000 bambini, ragazzi del Friuli Venezia Giulia, domani torneranno a scuola al termine delle vacanze di Natale. Rientreranno in aula 26.000 piccoli della scuola dell'infanzia, 49.000 alluni delle elementari e 32.000 delle medie. Sono 5 milioni in tutta Italia per il ritorno sui banchi degli studenti delle superiori. 48.000 bisognerà attendere in Friuli Venezia Giulia il primo febbraio a fronte dell'ordinanza che è stata firmata lunedì dal presidente della regione Fedriga. La stessa cosa cadrà in Veneto, nelle Marche e con ogni probabilità anche in Sardegna. Da domani comunque gli studenti delle superiori riprenderanno la didattica a distanza. A livello nazionale si riparte in ordine sparso. La ministra dell'istruzione, Azzolina, assicura che le superiori torneranno in classe l'11, visto che il problema dei trasporti, ha detto, è stato risolto. La data è quella stabilita dal governo con il decreto ponte. Tuttavia, appunto, ogni territorio si sta organizzando in autonomia. Il tema scuola sarà al centro della puntata di questa sera di elettroshock in onda dalle 21 con la parola all'amministrazione regionale, ai dirigenti scolastici, alle famiglie e agli studenti. E l'epidemiologo e pediatra Giorgio Simone sottolinea come negli istituti scolastici i contagi siano minimi ma sia in aumento il rischio per gli over 16. Il 7 gennaio le aule delle scuole superiori resteranno ancora senza studenti, come deciso dalla politica regionale. La presenza riprenderà solo da febbraio, eppure dentro le mura scolastiche i contagi sono stati limitati, semmai i problemi sono quelli noti legati ai trasporti, come ricorda l'epidemiologo e pediatra Giorgio Simone. I focolai nati a scuola, cioè da un ragazzo che ha contagiato da altri, sono assolutamente rari. È più probabile che l'infezione sia venuta all'interno della famiglia e che il ragazzo vada a scuola perché il virus l'ha preso all'interno della famiglia. Ma perché a pagare sono solo le superiori? Se i piccoli si contagiano meno, con il passare dell'età la situazione cambia. Più giovani sono i ragazzi e meno hanno probabilità di infettarsi, molto bassa nelle scuole materne, elementari, poi cresce man mano del crescere dell'età. Ci sa che le superiori, più o meno dopo i 16 anni, la probabilità di infettarsi è più o meno pari a quello dell'adulto. E questo è il motivo per cui si discute scuole superiori sì, scuole superiori no. Ci sono stati atemi di tensione nel pomeriggio di oggi in un paese della bassa friulana, dove una minorenne in preda a un raptus ha afferrato una mazza e ha ristrutto parte della casa dove vive con la famiglia. È stato necessario l'intervento del personale medico. e dei carabinieri che sono giunti sul posto con tre pattuglie. Il minorenne è stato assistito e tempestivamente trasportato in ospedale a Palmanova. Ancora cronaca, un operaio, manutentore di 44 anni, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri a causa di un malore. L'uomo è stato trovato senza vita in un albergo del Cividalesa. dell'allarme erano stati colleghi che non l'avevano visto rientrare in cantiede. Si era assentato qualche ora prima della fine del turno perché aveva accusato un malessere. Si tratta di un cittadino lombardo in Friuli con l'azienda per la quale lavorava come manutentore. Friuli, Venezia Giulia e Veneto hanno chiesto lo Stato di emergenza nazionale per il maltempo. Oggi il vicepresidente della regione Riccardi ha compiuto una serie di sopralluoghi incontrando i sindaci delle località più colpite dalle abbondanti nevicate degli scorsi giorni. Clout, Cimolais, Erto e Casso, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Pontebba e Tolmezzo. Con i primi cittadini, ha detto Riccardi, abbiamo effettuato una ricognizione dei danni e dei costi da trasmettere al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile al quale assieme alla regione Veneto abbiamo chiesto lo Stato di emergenza. I vigili del fuoco sono intervenuti anche oggi nelle località montane della Carnia per portare aiuto e liberare le strade e le coperture delle case e delle aziende dalla neve. I pompieri di Udine, del nucleo SAF, dei distaccamenti di Tolmezzo, dei volontari di Forni a Voltri, Rigolato, Cercivento e San Daniele hanno operato a Sappada, Forni di Sopra, Rabascletto, Forni di Sotto, Comeglianz, Forni di Sopra, Prato Carnico e Villa Santina e insieme a loro anche gli uomini provenienti da Reggio Emilia, Bologna, Forlì, Cesena, Bergamo, Piacenza e Ferrara. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.3 è stata avvertita nel pomeriggio con epicentro a sud-est di Zagabria in Croazia, registrato intorno alle 18 con epicentro non lontano da Petrinia, località a sud di Zagabria, una cinquantina di chilometri dalla capitale. La scossa è stata avvertita anche in Regione tra Trieste e Gorizia. E ora parliamo dei riti epifanici perché si è rinnovata a Cividale la tradizionale messa dello Spadone con ingressi contingentati in Duomo e volontari a controllare che fosse rispettato il distanziamento. Ci sono state dure parole nell'omelia da parte di Monsignor Livio Carlino sulla gestione dell'emergenza sanitaria. Per la città di Cividale poter nel 6 gennaio 2021 mantenere questa sollenità, questa celebrazione che vede il diacono tenere sulla destra, con la mano destra, la spada e con la mano sinistra appoggiando al cuore l'Evangelario diventa veramente un momento importante, un momento in cui ricorderò coloro i quali non hanno superato la pandemia ma anche con un grande messaggio di speranza. Come al solito non ha usato mezzi termini, ha fatto una riflessione ben precisa sulle vittime della casa di riposo. E non si può tacere di fronte a questa realtà. Io personalmente come uomo più prima che come prete e sento qualcosa che vedere 70 persone che se ne vanno in pochi giorni è una cosa veramente tragica. C'è la necessità di avere di fronte a una situazione che evolve continuamente avere la fantasia per poter venire incontro alle persone, non solo per rispettare tutte le norme, che è giusto rispettarle, ma bisogna salvaguardare la vita delle persone che vengono prima delle norme. Senta, concludendolo, qualcuno potrebbe dire, vista la pandemia, ma Dio dov'è? La dinamica dell'incarnazione è la dinamica di un Dio che è presente nella storia degli uomini. Dio è nel ricovero dove muoiono quegli 80. Dio è tra la nostra gente che è in ospedale o che è in quarantena. Dio è tra quelli che operano per far sollevare, risollevare un po' di queste situazioni di difficoltà, servendo malati e ospedali. Dio è lì ed è lì che è la nostra speranza. Una sfilata storica a Gemona, dove la Messa del Tallero è stata celebrata davanti a poco più di un centinaio di persone. Preso spunto dalle statue di Giovanni Griglio, che rappresentano l'arrivo dei re magi che recano doni al bambino Gesù e collocate nel corpo centrale della facciata del Duomo di Gemona, l'omelia di Monsignor Valentino Costante durante la celebrazione della Messa del Tallero. I re magi, ha detto, devono far riflettere gli areligiosi che nel terzo millennio sono sempre più numerosi. Come deve far riflettere l'atto di consegna della moneta d'argento, che racchiude in sé la volontà di collaborazione e di concordia tra il potere temporale e quello spirituale. Quest'anno Gemona, nonostante le vie deserte senza i classici paramenti che la addobbavano a festa in occasione della tradizionale cerimonia, ha voluto lanciare un segno di speranza di rinascita come accadde dopo il terremoto del 76 e di ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che si sono sacrificati e continuano a farlo per il bene comune. Un messaggio di solidarietà a quelle famiglie che hanno avuto parenti e sofferenze in casa e quindi un messaggio anche per loro di grande vicinanza e un messaggio di speranza che questa pandemia finisca il più presto possibile. Credo che poi in questo momento, proprio da Gemona, che è stato l'esempio della ripartenza dopo il terremoto, si possa prendere spunto per la terza ripartenza dopo questa pandemia che speriamo il più presto lasciarci alle spalle. È un segno di speranza e noi l'abbiamo comunque celebrato come ogni domenica, come ogni festa. Questa è una tradizione talmente importante che neppure una pandemia gravissima come quella che stiamo vivendo potrà cancellare. Siamo sicuri che tornerà a essere festeggiato come merita al più presto. Speriamo che la voce delle campane, che è la voce di Dio e del Signore, abbia dato conforto a tutti coloro che erano presenti alla celebrazione. E da Gemona, l'assessore regionale alle finanze Zilli, fa sapere che la Regione sarà accanto alle aziende e ai lavoratori quando questi non potranno più usufruire delle tutele messe in campo dal Governo e che i finanziamenti previsti per le politiche attive e del lavoro per la Regione sono stati quintuplicati. Il 2021 si apre con grandi intenzioni e programmi per la ripresa economica del Paese. In vista della scadenza del 31 marzo dei provvedimenti a tutela di imprese e lavoratori, la Regione mette in campo tutti gli aiuti possibili. L'impegno della Regione è totale. L'abbiamo dimostrato con questa legge di bilancio che abbiamo varato con grandi investimenti per oltre 354 milioni sul triennio e con un'attenzione molto spinta per il mondo del lavoro, sia per l'attenzione alla ripartenza delle attività produttive, ma anche per il sostegno al lavoro proprio per le politiche attive del lavoro, con un'adattazione finanziaria iniziale che è quintuplicata rispetto all'iniziale dell'anno scorso. È un momento straordinario per cui tutta la possibilità finanziaria che la Regione ha viene messa a disposizione proprio di questi settori più strategici e più in difficoltà. Torniamo ai tipi fanici, attesi anche a Tarcento. Da dieci mesi il vecchio venerando di Penst al Vaticino dello scorso anno ha ammesso però di non avere detto tutta la verità sulla lettura del fumo nel 2020. Sentiamolo. Io normalmente prendo il pignarul e lo divido in 12, che sono i mesi, per cui per due mesi ha bruciato benissimo, altri quattro ha bruciato solo per dentro, ma chi poteva pensare che volesse dire state in casa? Poi c'è stato un momento libero che ha bruciato molto bene e verso la fine, cominciando da tre mesi prima ad andare alla fine dell'anno, è imploso, o si è caduto dentro. Questo per me era qualcosa di gravissimo, ma non potevo dire cosa. Tra l'altro voi sapete benissimo che il fumo va dove vuole lui, io dico un po' quello che voglio io e le previsioni, quando c'è male si taccia un pochino. Io non sono un indovino, io cerco di leggere il pignarul. Questo è il mio compito, auguriamo ogni bene a tutti, non stai tagliessi e manteniti la mascarina. E i pochi bifanici della conca tarcentina, compreso il pignarul grant di Coia di Tarcento, saranno accesi in contemporanea sabato 9 gennaio alle 18. Gli organizzatori hanno ricevuto l'autorizzazione, il tutto si svolgerà in assenza di pubblico nel rispetto delle normative anti-Covid, il pignarul grant di Tarcento deve ancora essere completamente allestito, si attendeva appunto il via libera e oggi è arrivato. Le operazioni si concluderanno in tempo per l'accensione di sabato ed è previsto anche il nuovo vaticinio del vecchio venerando. Nonostante la zona gialla, un ristoratore di Udine domani non aprirà la propria attività. La spiegazione è un foglio fisso all'esterno del proprio locale. Aprire un pubblico esercizio non è come aprire il garage di casa. Lei è titolare di un ristorante, ha appena attaccato un cartello all'esterno del suo locale. Cos'è che vede lei per il futuro? Ma dobbiamo tenere presente che per noi aprire vuol dire sostenere dei costi. Se questi costi non sono recuperati nei giorni di chiusura, per noi vuol dire che l'apertura non è un ricavo ma è una perdita. Questo naturalmente può essere facilmente comprensibile da chiunque abbia studiato un minimo di ragioneria. Per noi aprire vuol dire sostenere dei costi, riscaldare, fornire della merce. Dobbiamo passare tramite la procedura di pulizia e sterilizzazione. E questo alla luce del fatto che non abbiamo nessuna consapevolezza di quanto questo possa essere influenzato dalla presenza di clientela oppure no. Perché nel momento in cui io incasso 100 o 150 o anche 200 euro in questa fattispecie io ci sto rimettendo soldi che naturalmente non sono soldi miei ma sono soldi della società. E questo naturalmente vuol dire avvicinarsi sempre di più alla possibilità di fallire nel corso di questo anno. In pieno recupero Arslan ha firmato il pareggio in estremis appunto per l'Udinese. Aldalara è finita 2 a 2, l'altra rete di Pereira nel primo tempo aveva ribattuto al primo vantaggio del Bologna con Tomiasu, poi Bologna ancora avanti con Svanberg, espulso. Poi l'Udinese ha giocato tutto il secondo tempo in superiorità numerica, ha perso però Forestieri per un risentimento muscolare. Sentiamo Gotti al termine di questa gara. Questo è il risultato della partita, una partita che l'Udinese ha giocato con due volti diversi, un primo tempo brutto e un secondo tempo ovviamente con la complicità dell'uomo in più ma con un atteggiamento completamente diverso dal primo, con una gestione della palla con personalità, con un bellissimo atteggiamento che probabilmente forse andava premiato anche di più. Mi dispiace perdere alla mezz'ora del primo tempo Forestieri per un altro malanno muscolare, sappiamo che è un campionato diverso dagli altri, da quelli precedenti, sono tutti giocatori che non hanno fatto la preparazione fisica, che vengono come nel caso di Forestieri anche da lunghi infortuni, insomma faremo di necessità virtù. Che voto dà l'Udinese di oggi? Primo tempo 4, secondo tempo 8. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo dopo di noi screenshot e alle 21 elettroshock. Grazie per averci seguito, buona serata su Telefriuli. Grazie per averci seguito, buona serata su Telefriuli.